Buongiorno ragazzi, buongiorno o se state guardando il video in serate, non di pomeriggio o di mattina, buonasera. Allora, questa lezione, come potete anche leggere dal titolo che vi ho assegnato, è l'introduzione al metabolismo. Allora, prima di introdurvi a questo importante concetto, che poi in effetti ci accompagnerà anche in quelle che saranno le lezioni successive, ancora qualche altro concetto di base vi vorrei un poco rispolverare, come per esempio i tipi di composti che ritroviamo in chimica organica. Ora, noi avremo a che fare, ci imbatteremo spesso in diversi gruppi funzionali, quindi è importante sapere anche identificare a quale classe di composti appartiene quel determinato gruppo funzionale. Per esempio, il legame singolo carbonio-carbonio, che abbiamo pure visto per esempio nella catena idrocarburica di un acido grasso, soltanto quello, diciamo è tipico in genere, il legame carbonio-carbonio senza carbonili o carbossidi degli alcani. Invece il doppio legame carbonio-carbonio è tipico degli alkeni, quello triplo invece degli alchini. Gruppo ossidrilico, ad esempio, caratteristico degli alcoli, ma anche dei fenoli, quindi non sono altri composti, diciamo, aromatici con il gruppo ossidrilico legato. Il legame invece, l'ossigeno, che lega a sé covalentemente due carbone, quindi funge da ponte tra due catene idrocarburiche, è tipico degli eteri. Il C-doppio legame O, questo che vedete scritto come CO, il carbonile, è tipico degli aldei e dei chetoni. Il C-doppio legame O, anche il carbossidio, è tipico degli acidi carbossidici. Questi invece che vedete sono i derivati degli acidi carbossidici come l'estere, ovvero C-doppio legame O-O-C, quindi l'ossigeno che lega un altro carbonio stavolta, oppure il C-doppio legame O-N, che è tipico degli ammidi, così come NH2 è tipico invece delle ammine, quindi è appunto un gruppo funzionale amminico. Ora, un concetto che voglio che sia ben chiaro a tutti, anche per le reazioni, i meccanismi di reazioni che andremo ad affrontare, è il concetto di nucleofilo e di elettrofilo. Per nucleofilo intendiamo quella specie chimica che è in grado di donare, di mettere in compartecipazione, i propri elettroni con la specie che è invece l'elettrofilo. Come suggerisce la parola nucleofilo, significa filo nucleo, cioè amante del nucleo, quindi ricerca quelle che sono le zone a bassa densità elettronica. Il contrario è esatto, è quello del concetto di elettrofilo. L'elettrofilo invece ricerca elettro, quindi zone ad elevata densità elettronica, quindi con molti elettroni. In genere gli elettrofili si possono ritrovare, per esempio, in una specie che lega a sé, per esempio, un atomo, un atomo che lega un altro atomo più elettronegativo, quindi il baricentro delle cariche negative è spostato verso l'atomo più elettronegativo, il che fa sì che quindi l'atomo, diciamo, meno elettronegativo avrà un dipolo positivo. Il nucleofilo quindi cerca queste zone, queste zone a bassa densità elettronica, quindi la freccia inoltre c'è da dire che quando voi rappresentate un meccanismo di reazione, ora in chimica organica o in biochimica, la freccia va sempre dal nucleofilo verso l'elettrofilo, mai il contrario. Quando poi il nucleofilo effetta l'attacco sul centro elettrofilo, genere sia il distacco, la scissione del legame e il rilascio di un gruppo, detto gruppo uscente. Sono nucleofili, per esempio, l'ossigeno, come vedete, carico negativamente, come quello che riscontriamo all'interno di un ossidrile non protonato, oppure i gruppi sulfidilici, carichi negativamente, il carbagnone, il gruppo amminico, per esempio, nelle ammine non cariche, è un nucleofilo. L'imitazolo, l'azoto imitazolico all'interno dell'anello dell'istidina, per esempio, oppure lo ione idrossido, che è una carica negativa, che può agire dal nucleofilo. Tra gli elettrofili, invece, annoveriamo, ad esempio, l'atomo di carbonio di un gruppo carbonilico, in quanto, in questo caso, l'ossigeno più elettronegativo tende a strarre maggiormente a sé elettroni di legame, anzi, addirittura, se avvia un attacco di nucleofilo, gli elettroni ripiegano sull'ossigeno, dando uno o meno, e quindi, in effetti, il carbonio coagisce da elettrofilo, nel senso che subisce un attacco da una specie nucleofila. Altri elettrofili sono, ad esempio, il gruppo imminico-protonato, questo qui, ad esempio, o anche il fosforo di un gruppo fosfato. Voi direte, perché il fosforo? Perché tutti questi ossigeni attorno hanno una maggiore elettronegatività e quindi attirano a sé maggiormente le cariche elettriche. Il fosforo, quindi, ha una parziale carica positiva, in questo caso, se lo si può dire. Anche il protone H+, è un elettrofilo. Ora, volendo ricapitolare, quindi, gli elettrofili sono specie chimiche con una parziale o totale carica positiva, oppure con l'ottetto incompleto. Sono elettrofili tutti gli atomi di carbonio dei gruppi carbonile e carbossile. I cationi, come l'ione idronio, H+, o nitronio, NO2+, I carbocationi che si formano, come il carbocatione metile o etile, le molecole con l'ottetto incompleto, come il tricloruro d'alluminio o il tricloruro di boro, per esempio, gli elettrofili tendono a reagire con i nucleofili, accettando il doppietto elettronico libero e formando quindi un legame covalente. I nucleofili, invece, sono specie chimiche con una parziale o totale carica negativa, oppure che hanno un doppietto elettronico disponibile, uno o più doppietti, da poter, appunto, fornire all'elettrofilo, poi. I nucleofili quali sono? Gli atomi di ossigeno, che ritroviamo nei gruppi funzionali, come il carbonile o il carbossile, gli aglioni, come l'ione OH-, o l'alcossido R-. Tutti gli ioni degli alogeni, cloruro, ioduro, floruro, bromuro, i carbaglioni archilici, come questo qui, ad esempio, molecole che abbiano almeno un doppietto elettronico disponibile, ad esempio, nell'ammonia che abbiamo il doppietto dell'azoto, nell'acqua addirittura ne abbiamo due di doppietti, e anche gli atomi di azoto, poi, dei gruppi atomici, come quelli delle ammine, oppure del gruppo amminico. Qua, ecco, un esempio pratico di reazione nucleofile-elettrofile, in particolare, una reazione che si definisce sostituzione nucleofila, perché, di fatto, abbiamo che il nucleofilo, in questo caso rappresentato dal gruppo ossidilico, lega il centro elettrofilo, rappresentato dal carbonio, e questo carbonio lega il cloro, che sappiamo essere una specie molto elettronegativa, quindi la carica positiva è concentrata qui, il nucleofilo attacca il carbonio, allo stesso tempo il carbonio, anche perché sennò formerebbe cinque legami, si libera del cloro, che è un buon gruppo oscente, quindi viene liberato, e quindi la reazione è proprio una sostituzione, perché al posto del cloro vi si legherà poi lo H. Ora, un concetto pure importante che vi volevo illustrare è quello della risonanza chimica. La risonanza, diciamo, che è un fenomeno che è determinato da una delocalizzazione degli elettroni, che si spostano dando origine a strutture diverse, senza che però gli atomi cambino di posto. O meglio, di fatto c'è uno spostamento di elettroni, però come vedete la formula è sempre la stessa. Prendiamo, per esempio, qui sotto, un oione, che è l'ione carbonato, qui abbiamo due ossigeni carichi negativamente e un C doppio legame O. Che succede? Che gli elettroni, in questo caso, ripiegano, formando un doppio legame, però allo stesso tempo il carbonico, che non può formarne cinque di legame, non è pentavalente, il legame C doppio legame O ripiega, generando un ossigeno carico negativamente. Qui però si è formato il doppio legame. Questa nuova specie, a sua volta, può dare origine a una delocalizzazione di elettroni simile a quella che abbiamo visto prima, generando quest'altra struttura. Tutte queste strutture si chiamano formule limite di risonanza. E quindi queste formule limite concorrono insieme a definire la vera struttura di una molecola. Quindi la vera struttura non è né questa, né questa, né questa, ma è un insieme di tutte queste, messe insieme. Quindi è un ibrido, è proprio un ibrido di risonanza. Questo si chiama di ibrido. Un esempio classico, più classico di risonanza, è quello che descrive la struttura del benzene, ad esempio. Formula bruta C6H6, quindi 6 carboni, 6 idrogeni. E in ogni caso nel libro di risonanza tutti i legami carbonio-carbonio sono equivalenti a metà strada tra singoli e doppi. Questo perché, come vedete, in effetti, doppio legame qua nell'anello a 6 termini del benzene ripiega formando un doppio legame. Questo spostamento cosa comporta? Comporta due cose. Che qui il carbonio si ritrova con una carica positiva perché si ritrova appunto con un legame in meno. Qui avrà un carbonio che legherebbe 5 atomi, doppio legame, doppio legame, più il quinto che è l'idrogeno. Perciò, anche in questo caso, il doppio legame ripiega. Per la stessa ragione che vi ho detto poco fa, anche in questo caso il carbonio non può formare 5 legami, quindi quest'altro doppio legame ripiega. Questo spostamento, questa delocalizzazione di elettroni, genera questa seconda struttura limite di risonanza, che poi può essere, a sua volta, riconvertita nella struttura di risonanza precedente. Quindi, questo è il concetto di risonanza, che in realtà forse molti di voi già avranno sentito parlare, magari anche in chimiche inorganiche, però volevo ribadirvelo. Così come vi vorrei ribadire anche un gruppo di reazioni che è fondamentale, anche perché sono reazioni che troveremo di frequente quando parleremo di metabolismo, di reazioni metaboliche. e sono reazioni di ossido-riduzione. Le reazioni di ossido-riduzione prevedono che vi sia una specie che si ossida e una specie che si riduce, ovviamente. Ora, la specie che si ossida è quella che cede gli elettroni. Quella che invece li riceve si riduce. Ora, per farvi un esempio, qua abbiamo la reazione tra zinco e rame. Lo zinco qua ha stato di ossidazione zero. Qui invece il rame ha stato di ossidazione più due. Che succede? Lo zinco passa da zero a più due come stato di ossidazione perché perde due elettroni che passano dallo zinco al rame. Lo zinco quindi ha perso gli elettroni e quindi si è ossidato. Il rame che però ne ha acquisiti due di elettroni perché questi due elettroni che lo zinco cede non è che si perdono o si disperdono. Vengono acquisiti dal rame che passa nella sua forma ridotta si è infatti ridotto. Quindi zinco si è ossidato rame invece si è ridotto. Questo però anche per dirvi una cosa importante quando noi parliamo di reazioni per esempio di ossidazione o di riduzione spesso ne porta da pensare che quella specie si ossida e finisce lì ma ricordatevi che per ogni specie che vi ossida cioè che si ossida vi è sempre un'altra che si riduce perché giustamente la specie che si ossida è quella che perde gli elettroni ma questi elettroni una fine dovranno pur fare non è che rimangono così e quindi ci sarà sempre una specie che li accetterà gli elettroni e quindi si ridurrà. Ora un esempio classico è l'ossidazione del ferro tipicamente noi abbiamo che come sappiamo se il ferro viene lasciato per lungo tempo anche esposto all'aria tende a arrugginirsi per un processo appunto di ossidazione perché il ferro sta in uno stato pari a 0 come stato di ossidazione ed è diciamo di colore grigio metallico ovviamente che succede quando si reagisce con l'ossigeno generando F2 o 3 il ferro come vedete qua passa da stato di ossidazione 0 a stato di ossidazione più 3 cioè vuol dire che il ferro ha perso 3 elettroni quindi si è ossidato però così come il ferro si è ossidato l'ossigeno si è ridotto questo per riallacciarmi a quello che vi ho detto prima non esiste mai una vera e propria reazione solo di ossidazione o solo di riduzione noi si magari possiamo dire il composto che ci interessa il ferro che il ferro si è ossidato e quindi ha formato la ruggine ma se è vero che il ferro si è ossidato contemporaneamente un'altra specie si è ridotta e questa specie è l'ossigeno ora fatta questa analisi delle reazioni di ossidazione parliamo di metabolismo il metabolismo rappresenta la somma di tutte le reazioni chimiche che avvengono in una cellula o in un organismo e avviene attraverso una serie di reazioni catalizzate da enzimi che costituiscono quelle che si chiamano le vie metaboliche in queste varie successioni di tappe di vie metaboliche le molecole di precursore vengono convertite in prodotti questi prodotti vengono trasformati e costituiscono quelli che si chiamano gli intermedi metabolici ora il metabolismo può essere suddiviso in due categorie cioè o meglio sarebbe più opportuno dire che il metabolismo comprende il catabolismo e l'anabolismo allora quando noi parliamo di catabolismo rappresenta la fase degradativa del metabolismo in cui le molecole organiche dei nutrienti quindi carboidrati grassi e proteine vengono convertite in prodotti finali più semplici come appunto acqua ammoniaca nitide carbonica e questa trasformazione genera energia chimica l'energia chimica viene accumulata in forma in forma di ATP ma anche di trasportatori di elettroni in forma ridotta come per esempio NADH NADPH FA DH ora la parte poi rimanente viene rilasciata sotto forma di calore il processo invece inverso è l'anabolismo chiamato anche biosintesi in cui da precutori semplici come amminoacidi zuccheri acidi grassi e nucleotidi vengono ottenute molecole più complesse come proteine polisaccaridi lipidi o acidi nucleici il catabolismo diciamo che sono tutte reazioni ossidative cioè si ha l'ossidazione per produrre di queste macromolecole come carboidrati grassi e proteine per produrre energia ma invece le reazioni anaboliche hanno bisogno di un rifornimento di energia grazie appunto all'ATP fornito grazie al catabolismo viene utilizzata questa energia viene sfruttata così come viene sfruttato il potere riducente di ATP NADH NADPH per sintetizzare molecole complesse come proteine polisaccaridi lipidi e acidi nucleici ora queste molecole qua ATP NADPH NAD+, NADP+, le vedremo poi un po' più in dettaglio nelle slide successive la loro struttura chimica vera e propria quindi ricapitolando catabolismo sono reazioni ossidative anabolismo reazioni riduttive questo è parlato di reazioni di ossidore riduzione allora quali sono esempi di processi catabolici l'abbiamo visto quelli che a partire da molecole semplici come aminoacidi monosaccaridi acidi grassi allora a volte ottenute i varianti processi di gestione enzimatica a partire da molecole più complesse viene prodotta una piccola molecola che è l'acetilcoenzima l'acetilcoenzima che poi entra come vedremo nel ciclo di Krebs e quindi poi la fosforiazione ossidativa genera ATP adenosintrifosfato una molecola altamente energetica importante per il funzionamento il corretto funzionamento del nostro organismo umano esempio invece di processi anabolici al contrario sono processi che a partire da precursori semplici come per esempio nel caso della gluconeogenesi dicerolo il lattato l'etanolo ci consentono di costruire molecole più complesse come il glucosio questo è un esempio di processo anabolico la gluconeogenesi ma anche la biosintesi del colesterolo o dei trigliceridi è un esempio di processo anabolico ed ecco veniamo a queste molecole di cui vi parlavo prima innanzitutto vediamo questo questo è NAD che è la nicotinamide adenil di nucleotide un nome piuttosto altisonante che praticamente che cos'è? è una molecola che è formata praticamente da due nucleotidi uniti mediante un legame di tipo fosfoanidritico tra i loro gruppi fosforici praticamente i due nucleotidi sono composti ciascuno da un gruppo fosfato legato in posizione 5 a uno zucchero che è il ribosio che a stavolta lega a sé una base azotata in questo caso la base azotata in questo caso qui sotto è l'adenina questa invece qui di sopra è la niacina in effetti è la niacina che prende parte poi alle reazioni ossido-riduttive in particolare io vorrei fare una distinzione tra NAD più NADP più la differenza diciamo sostanziale che a parte che questo è il nicotinamide adenine di nucleotide questo è il nicotinamide adenine di nucleotide fosfato parte la differenza di nomenclatura il primo è implicato in reazioni sia ossidative che riduttive il secondo soltanto in reazioni riduttive poi come vedete strutturalmente si sono due nucleotidi legati mediante un ponte di due fosfati legati tra di loro mediante un legame abbiamo detto fosfa-nipidico però come vedete c'è un qualcosa che lì diversifica un piccolo dettaglio il dettaglio è che legato al carbonio in posizione 2 dello zucchero nell'NADP è legato a un fosfato per quanto riguarda sempre appunto il NAD come vedete è questa porzione qui quindi è proprio la niacina la porzione della niacina essere implicata nelle reazioni ossido-riduttive in particolare appunto questa porzione può subire un attacco nucleofilo da parte di uno ione idruro carico negativamente come vedete in questo caso cambia se si ha una delocalizzazione degli elettroni che si spostano generando questa struttura cioè NADH che è l'NAD che ha ricevuto un protone quindi con sé anche un elettrone che è la forma praticamente ridotta del nicotinamide dell'indinucleotide forma ridotta che però può anche benissimo attraverso la reazione esattamente opposta a quella che abbiamo visto prima liberare uno di unidruro e ritrasformarsi nella forma ossidata questo invece che vedete è il FAD o flavina adenina dinucleotide è un importante fattore ossidante nella beta ossidazione degli acidi grassi e nel ciclo di Krebs e interviene nel trasporto degli elettroni come vedremo nella catena di trasporto proprio degli elettroni che poi studieremo più in là nelle successive lezioni come è fatto strutturalmente il FAD allora come vedete abbiamo un'adenina che lega con il proprio azoto un ribosio uno zucchero pentoso che a sua volta lega un doppio fosfato quindi due fosfati il secondo fosfato come vedete è legato a uno zucchero lineare il ribitolo ribitolo che a sua volta è legato a un una struttura a tre anelli condensati che costituiscono il cosiddetto gruppo isoallo ossazzinico della flavina difficile anche da pronunciare gruppo isoallo ossazzinico tre anelli fusi l'uno all'altro questo giusto per e questo invece ecco una molecola importantissima forse una delle più importanti del nostro organismo che rifornisce ci rifornisce di energia soprattutto molto utile quando poi avvengono quelle che sono le reazioni anaboliche quelle che portano alla biosintesi dei composti l'ATP come è fatto strutturalmente abbiamo sempre una base azionata adenina legata al ribosio il ribosio è legato mediante un legame estere a un fosfato fosfato che questa volta è legato agli altri due fosfati mediante legami fosfo-anidridici il primo fosfato che vedete quello legato direttamente al ribosio prende il nome di fosfato alfa questo invece che segue è il fosfato beta chiaramente questo invece è il fosfato gamma ora l'ATP può subire tre possibili attacchi nucleofilici nucleofili volevo dire scusate tre attacchi nucleofili a seconda se l'attacchio avviene sul gamma sul beta e sull'alfa in particolare quando l'ossigeno del nucleofilo attacca la posizione in gamma il risultato è che poi si ha la liberazione la rottura la scissione terolitica del legame tra gamma e beta e la liberazione quindi di ADP cioè di adenosine di fosfato quando invece l'attacco avviene sul fosfato in beta da parte dell'ossigeno quello che accade è che si ha il trasferimento di un gruppo bilofosforico sul nucleofilo e la liberazione di adenosine monofosfato se invece abbiamo che il nucleofilo attacca il fosfato in alfa si ha una reazione che si chiama adenilazione del nucleofilo che porta alla rottura di questo legame tra beta e alfa e alla liberazione poi di un gruppo formato da due fosfati che si chiama gruppo pirofosforico questo è quello che volevo illustrarvi spero vi sia tutto chiaro alla prossima di un gruppo